Ciao a tutti, benvenuti su il mio canale. Sono l'avvocato Fabrizio Bartolini, un avvocato cassazionista che si occupa di diritto di famiglia. Oggi parliamo di un tema davvero importante e anche diciamo delicato, la separazione. È un momento difficile, lo so, se sei qui probabilmente stai vivendo o conoscendo qualcuno che sta attraversando una separazione. Ci sono tante preoccupazioni che affollano la mente di chi si trova in questa situazione. Ma non devi temere, oggi ti aiuterò a fare chiarezza su alcuni dei dubbi più comuni. Ma lo facciamo dopo la sigla. In questo video affronteremo tre argomenti fondamentali che riguardano le separazioni e che toccano da vicino tantissime famiglie. Parleremo di tutela dei figli, di assegnazione della casa familiare, di assegno di mantenimento per il coniuge e per i figli. Quindi mettiti comodo perché, anche se in breve, scoprirai tutto ciò che devi sapere per affrontare questo momento con consapevolezza e serenità. Ma andiamo al dunque. Tutela dei figli. L'interesse dei minori è al primo posto. La prima domanda che la maggior parte dei genitori si pone è, ma come posso fare in modo che i miei figli soffrono il meno possibile? E questo è molto importante perché la legge italiana mette proprio al primo posto l'interesse del minore. In altre parole, l'obiettivo dei tribunali, il primo obiettivo, è garantire che i bimbi continuino a essere il più sereno possibile nonostante la separazione. E qui si affronta il tema dell'affido condiviso, che è la regola in Italia. Questo significa che, salvo casi eccezionali, entrambi i genitori devono partecipare alla vita dei figli attivamente. È un modo per garantire che il bimbo abbia un legame solido e costante con entrambe le figure genitoriali. Poi si parla di diritto di visita. Ma attenzione, non è solo un diritto. È un dovere per un genitore. Per il genitore non collocatario, cioè quello che non vive con i figli, ha il diritto, ma anche il dovere di trascorrere del tempo con loro. Se sei un papà o una mamma in questa situazione, non devi sottovalutare questo punto. Il rapporto coi figli è essenziale per il loro sviluppo emotivo. E se magari ti stai chiedendo se è possibile ottenere l'affido esclusivo, la risposta è sì, ma solo in casi estremi, come per esempio in presenza di gravi problemi del genitore per la tutela del bambino. Altro problema caldo è l'assegnazione della casa familiare. Chi rimane a vivere nella casa? Questo è spesso un tema veramente di grande conflitto, perché naturalmente ognuno vorrebbe poter continuare a vivere nella propria casa, nel luogo dove si sente ovviamente a proprio agio e sicuro. Ma a riguardo la legge cosa dice? Beh, la casa familiare viene assegnata al genitore collocatario dei figli minori o maggiorenni, non economicamente autosufficienti. Ma in pratica cosa significa? Significa che se avete dei figli che rimarranno a vivere con voi, beh, allora con molta probabilità potrete ottenere l'assegnazione della casa. Perché lo scopo è proprio quello di garantire che i figli continuino a vivere nell'ambiente che conoscono e dove si sentono, si può dire al sicuro, evitando cambiamenti drastici che potrebbero destabilizzarli. E la legge vuole evitare proprio questo. Ma attenzione, perché l'assegnazione della casa familiare non significa che la proprietà passa o venga trasferita all'altro coniuge. Se la casa è intestata al tuo ex, resterà sua. Tu avrai solo il diritto di abitarci finché i figli non diventeranno autosufficienti o finché il giudice non decida diversamente. Questo punto è molto importante perché molte persone pensano che ottenere l'assegnazione della casa equivalga a diventare proprietari. Certo, per molto tempo ci potrai anche stare, però non sarai mai proprietario. Inoltre il diritto a vivere nella casa familiare può decadere se si va a convivere con un nuovo partner. Quindi questi dettagli sono importanti perché possono fare una grande differenza e servono a chiarirti il concetto dell'assegnazione della casa familiare. Poi si parla di assegno di mantenimento per il coniuge e per i figli. Chi paga cosa? Lo affrontiamo come ultimo argomento ma non è certamente il meno importante perché questo tema è spesso fonte di tensioni perché le risorse economiche in una famiglia separata inevitabilmente si riducono e bisogna fare i conti con nuove esigenze e responsabilità. E qui abbiamo l'assegno per i figli dove ovviamente qui la regola è abbastanza chiara perché entrambi i genitori hanno l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli in proporzione alle rispettive possibilità economiche. Cosa significa? Significa che anche se i figli vivono con uno dei due genitori, l'altro dovrà comunque versare un assegno di mantenimento per coprire le spese necessarie come quelle per la scuola, per esempio le attività extrascolastiche, la salute, i vestiti eccetera. Vi potrebbe essere accanto a questo l'assegno di mantenimento per il coniuge che è una questione completamente diversa perché la legge prevede che uno dei coniugi possa ricevere un assegno di mantenimento solo se non è economicamente autosufficiente. Questo assegno quindi ha l'obiettivo di permettere al coniuge più debole economicamente, quindi ci deve essere questa diciamo debolezza economica, di mantenere un tenore di vita simile a quello che aveva durante il matrimonio, ma non è sempre automatico. Dipende dalla situazione economica di entrambi e dalle circostanze della separazione e si parla di tenore di vita solo nel caso di separazione, non di divorzio. La domanda è ma come viene stabilito questo importo? Sappiate che il giudice tiene conto di diversi fattori, il reddito, il patrimonio, le esigenze dei figli, il tenore di vita mantenuto durante il matrimonio, mentre per il divorzio terrà conto di altri aspetti, di una anche valutazione compensativa e perequativa dell'assegno. Affrontare la separazione con consapevolezza è molto importante. Abbiamo visto brevemente i tre punti principali che preoccupano spesso le persone durante una separazione, la tutela dei figli, l'assegnazione della casa familiare e l'assegno di mantenimento. È normale avere mille domande e sentirsi persi, ma ricordate che informarsi è il primo passo per affrontare tutto con una maggiore serenità. Quindi se state attraversando una separazione o ovviamente magari dovete supportare qualcuno che la sta attraversando, potete condividere questo video. Può davvero magari essere un aiuto avere delle informazioni chiare e affidabili e se volete poi approfondire qualche argomento potete lasciare un commento qui sotto o contattarmi direttamente perché io sono qui per aiutarvi. Non mi resta che ringraziarvi per aver guardato questo video, ricordate di mettere un mi piace e di iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi di video sul diritto di famiglia. Alla prossima e ricordate che anche nei momenti più difficili confrontarsi con un professionista del settore può fare sempre la differenza. Ciao, a presto!